Ciao chi sei? Ciao io sono Lucia Mariani. Ciao io sono Rachele. Da dove vieni? Vengo da Ancona. Io vengo da Macerata. Hai mai sentito parlare della scuola di studi superiori Giacomo Leopardi dell'università di Macerata? Sì ne faccio parte. Sì faccio parte della scuola Giacomo Leopardi. È vero che è la scuola dei secchioni? Abbastanza. No, assolutamente. Che cosa studi? Lettere classiche. Giurisprudenza. Ti ritieni un secchione? Abbastanza. No. Trova tre aggettivi per definire la scuola. Originale, interdisciplinare, stimolante. Interessante, formativa e serve proprio anche il test. È vero che nella scuola si studia il doppio? No. Sì. Ma ne vale la pena? Sì, secondo me sì. Sì. Perché permette di conoscere e studiare ambiti e argomenti altrimenti difficilmente scopribili in un semplice percorso universitario. Ti trovi bene? Sì. Cosa vuoi fare da grande? Ancora non lo so. Cambio domanda. È vero che se sei bravo alla scuola non paghi niente? Sì, perché la scuola ci paga sia le tasse universitarie che la mensa. Siamo esentati dal pagamento delle tasse universitarie e dal pagamento dell'alloggio che ci viene fornito in alcune delle palazzine previste e offerte dall'università. Quindi siamo esenti dalle spese di vita alloggio. Ti piace viaggiare? Sì, molto. Lo sai che con la scuola devi fare un periodo di studio all'estero? Sì, lo so e partirò a settembre. Sì e non vedo l'ora di trovare un attimo libero per andarmi. Grazie del tempo che ci hai dedicato. Saluta, invitando una matricola a partecipare al concorso per iscriversi alla scuola. Vieni a provare questo concorso perché vale la pena, scoprirai tante cose che altrimenti non immagineresti neanche. Chi ha voglia di studiare ma non solo, anche di conoscere, di fare nuove esperienze insieme ad altre persone, di avere la possibilità di rapportarsi con persone veramente stimolanti. Quindi sì, invito tutti a partecipare al concorso. Ciao!